La partita in realtà si è giocata su due comuni, quello di Apricena che presenta un vero e proprio boom di Tesserati e poi su Manfredonia dove non si capisce chi fa cosa tra Rotice e compagnia cantante. In realtà sì e questo è anche un altro motivo per il quale avevo scritto al partito a Roma perché se si consente ad una sola città una vera e propria operazione di OPA è chiaro che una città decide per 61 comuni quanto sono i comuni della provincia di Foggia. Ad Apricena hanno fatto 330 tessere ed è il primo comune ad aver fatto il più tessere di tutti quanti, ben 40% dei Tesserati al congresso, quindi insomma mi sembra un'assurdità. Io infatti ai miei amici la prima cosa che ho detto è fare un tesseramento che sia più consono possibile anche al territorio. Su Manfredonia invece? Su Manfredonia ci sono 143 tessere, non so a chi siano riconducibili, però ecco succede questo che per uno strato meccanismo Rotice si era avvicinato a dell'erba e a potenza in provincia di Foggia facendo perdere il candidato di Forza Italia poi Gatta che giustamente aveva appoggiato Rotice fa sciogliere l'amministrazione comunale a Manfredonia, oggi Gatta che ha fatto sciogliere l'amministrazione comunale si ritrova in lista con dell'erba. Questa è una cosa apparentemente molto 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 discutibile.